rovinare steven universe è stato uno dei video più apprezzati del mio canale ma appunto ci sono delle scene che sono state cambiate o eliminate per esempio questa scena il tuo profilo instagram è molto intero smettila di cantare inizialmente era prevista per essere fatta in modo un po' diverso smettila di cantare la cambiai perché rovazzi era più adatto al 2017 una scena è stata eliminata per sbaglio dal mio programma di montaggio già all'inizio c'era ma quando ho finito di montare il video credo di averla eliminata per sbaglio ed era questa ti proteggo io papone sta tranquillo ho un tubo per l'acqua un'altra scena tagliata perché secondo me era troppo poco divertente era proprio questa quanto sei alto soldato signore 1 e 73 signore un metro e 73 prima non facevano pile di merda così alte la prossima scena invece è stata tagliata perché arriva dalla quinta stagione di steven universe e volevo evitare spoiler a sorpresa alla gente quindi se non avete ancora visto i primi episodi della quinta stagione non andate avanti quanto fa 20 più 18 36 come fa a far 18 più 15 non fa 36 di ottimale dica te dà un ciappone che ti pitturo su quel muro tua mare puttana che te coppo dio 15 e 18 quanto fa coglione inizialmente questa scena non doveva essere fatta con gravity falls ma effettivamente faceva poco ridere e faceva pure spoiler sulla serie quindi se non avete mai visto la prima stagione di a tutto reality non guardate la prossima scena chiudete il video qui tanto è finito nell'episodio precedente di a tutto reality l'isola che cos'è questo strano rituale di questo passo 30 avrà bisogno di una squadra di disinfestazione solo vogliono fare una fusione